Con l'arrivo del comandante Maurizio Zorzetto e con l'entrata in servizio dei nuovi agenti della polizia locale adeguatamente formati durante l'intero mese di novembre, Pordenone può finalmente contare su un nutrito gruppo di agenti a copertura del suo territorio. Tanti progetti in cantiere e le attività per essere nuovamente considerati dalla cittadinanza dei punti di riferimento attivi. Con il mese di novembre di quest'anno il corpo di polizia locale dei comuni di Pordenone e Cordenons si è arricchito di altri 17 unità. Questa iniezione di nuove forze si incastona in un progetto molto più ampio che con l'amministrazione comunale si è voluto avviare per rigenerare e rilanciare la polizia locale del nostro territorio. Un rilancio basato su obiettivi molto precisi di efficientamento del servizio reso, di maggior presenza sul territorio per garantire una percezione della sicurezza dei cittadini che sia allineata con i bisogni che vengono espressi e che sono stati rilevati dalla cittadinanza. Il nuovo progetto di rilancio prevede una nuova compartimentazione all'interno del corpo con la formazione di reparti e dei nuclei specialistici che rispondono puntualmente ai diversi ambiti di intervento della polizia locale. Per il cittadino cambia sostanzialmente il rapporto che si andrà a instaurare con la cittadinanza perché l'attivazione dei presidi territoriali, uno a Cordenons e uno a Pordenone, si occuperanno di tutte le tematiche di vigilanza territoriale, di controllo e di gestione del territorio mentre nel reparto mobile e nel reparto operativo verranno allocati i nuclei specialistici dalle attività più amministrative come la polizia commerciale annonaria, la polizia ambientale ed edilizia, la centrale operativa e la polizia amministrativa a quelle più operative che trovano collocazione nel reparto mobile con il nucleo di pronto intervento radiomobile e il nucleo di sicurezza urbana e polizia giudiziaria che sono due innovazioni introdotte proprio da questa nuova organizzazione che si prefiggono il fine di avere una maggiore presa sulle problematiche del territorio, consentire e garantire una vigilanza più puntuale ma anche più rapida, più vicina alle problematiche che possono essere osservate e rilevate sul territorio, quindi da fenomeni di devianza giovanile a fenomeni di microcriminalità alle quali con queste nuove strutture saremo in grado di poter dare risposte in maniera efficace.